AI è un programma di educazione all'etica e l'imprenditorialità che ha tra i suoi partner anche il comune di Arezzo e Confindustria. L'obiettivo è quello di diffondere la cultura dell'innovazione imprenditoriale etica tra i più giovani e far sì che uno abbia la possibilità di sviluppare la competenza imprenditoriale per essere poi protagonista del proprio futuro in maniera autonoma e libera con l'obiettivo anche quello di promuovere lo sviluppo sul territorio di nuove iniziative imprenditoriali da parte dei più giovani. I protagonisti giovani studenti aretini Quest'anno raddoppiamo gli istituti coinvolti perché c'è anche ITIS oltre che il Bonarroti il progetto ricalca le linee dell'anno scorso, ho avuto un bel successo, molti partecipanti c'è un premio speciale riferito al turismo, cosa che mi pare piuttosto pertinente con la situazione che sta vivendo Arezzo quindi un'esperienza che va avanti dopo il primo anno dell'anno scorso a Arezzo perché poi loro lavorano in altre località in tutta Italia e quindi vediamo quello che ne verrà fuori credo che come l'anno scorso verranno fuori idee interessanti e il coinvolgimento dei ragazzi sarà totale. L'obiettivo finale è quello di far nascere una start-up attraverso un percorso di apprendimento sul campo. Due fronti, un fronte per quanto riguarda l'incontro one to one quindi delle piccole lezioni verticali dove andremo a affrontare i temi di business plan piuttosto che temi di etica o di scalabilità di progetto. L'altro fronte invece appunto come ho accennato è l'apertura delle nostre aziende e quindi toccare con mano effettivamente come noi andiamo a lavorare anche nei piccoli dettagli.